In questo senso la vita è teatro perché è mimesi, è imitazione, cioè il sacerdote o il capo della tribù o lo stregone e in qualche modo quando cercava di ingraziarsi gli dei, il cielo, la divinità del caso e i romani per esempio avevano degli dei molto particolari, loro facevano un dio per tutte le cose pratiche della terra ci stava anche il dio del danare, il dio del rame, qualsiasi dio che poteva servire perché era in qualche modo concreto e legato alla loro cultura e ai loro interessi veniva deificato e di conseguenza uno degli spunti più importanti e interessanti che io ho trovato nel libro, al di là del discorso di Brucinella, è proprio che il concetto che Ciro dà alla parola archetipo si può estendere nei secoli fino addirittura, lo dicevo prima, all'uomo primitivo. Ora naturalmente è bellissimo quanto ha detto il professore Corsi sul significato che varie interpretazioni hanno dato di Pulcinella lui ha parlato di quelli sostanzialmente positivi, diciamo anche, ne sottolineerei anche qualcuno di negativo e la legherei forse a un certo tipo di malintesa napoletanità spesso e volentieri la napoletanità è stata una cultura consolatoria ci dominano, ci trattano male, ci governano male, le cose vanno male e forse io rispondo con una canzone, con la comicità, con una battuta e probabilmente noi non vogliamo e non pensiamo che Pulcinella debba in alcun modo e mai rappresentare questo aspetto consolatorio tant'è che prima si parlava di guadagni, insomma, affonso coniò il famoso termine napolitudine proprio in contrapposizione a una malintesa napoletanità napoletanità che intenderebbe sussumere dei caratteri e delle cose quasi inossidabili inossidabili rispetto a quanto succede attorno un conto è una forma di resistenza è una forma anche di sopportazione, di vocazione ad andare avanti, a lottare legata a un istinto di sopravvivenza su questo sì che sono d'accordo quindi se noi dobbiamo trovare un principio fondamentale nella figura, nella cultura nella trasmissione del pensiero di Pulcinella è il diritto alla sopravvivenza è ciò che è diritto non si deve chiedere in ginocchio non si deve chiedere per carità, per pietà o per favore e naturalmente da qui a tutto quello che ci succede intorno fino al voto di scambio e tutti gli scandali che ben conoscete capite bene che il passo è breve quindi una figura di Pulcinella che sicuramente rimandi alla identità anche se glielo dobbiamo confezionare addosso di un popolo però come popolo coraggioso che è capace di reagire e che in tutte le dominazioni è vero, ha subito ma ha anche dato moltissimo da questo punto di vista Napoli è una città apertissima perché non c'è stato nessuno che sia venuto in questa città certamente che non abbia portato via, non abbia presa però cose nostre e che non abbia lasciato delle cose sue però hanno portato anche un messaggio di cultura, di vitalità, di vita qualcosa che Napoli ha dispensato a piene mani sempre e comunque mi spero che possa continuare a farlo e vorrei concludere insomma esortando tutti a leggere il libro di Ciro De Novellis ma questo non è uno spot perché è veramente un libro da questo punto di vista molto intelligente, molto importante e soprattutto però c'è da dire che è qualcosa che stimola ad andare oltre e ad andare avanti nello studio di alcune cose perché in realtà vi trovate di fronte a un uomo che non ha come dire una struttura, una sovrastruttura di tipo accademica è una persona che i suoi studi li ha fatti e li ha fatti da sé ma quando noi parliamo di etnologia io sfido chiunque a dire che un etnologo possa starsene tranquillamente soltanto in una stanza, in un salotto oppure in una università l'etnologo è quello che va in giro con il registratore che va da tutte le parti che ruba le parole che ascolta i suoni, i canti e che poi cerca Ciro De Novellis è tutto questo penso che dobbiamo ringraziarlo per quest'altro regalo che ci ha fatto grazie grazie a dottorino Fragno Mirella grazie a tutti grazie a tutti